. At Metz, Paire piega Goffin, oggi le semifinali . L'incontro tra Paire e Goffin illumina il veloce di Metz. 3 set, variazioni di talento, un equilibrio costante. La spunta il francese, al prolungamento del terzo, cancellando un match point. In semifinale, solo due teste di serie, Paire appunto e Misha Derev. . . Il tedesco avanza a fari spenti, ma è uno dei favoritti della corsa al titolo. Contro The Skipper, una performance attenta in ogni dettaglio, eccezion fatta per qualche sbavatura, pallina alla mano, nel secondo parziale. . 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 Qualificazione ed ha i successi con Simon e come detto Coppola. Due precedenti, entrambi favorevoli a Peter. Ultimo passaggio all'Australian Open, nel 2014. A seguire, Basilashvili prova a fermare l'onda francese. Il georgiano trova Benoit Paire. Anche qui sono due le partite in archivio. Nel 2015, sul veloce Endor di Montpellier, Paire in 3 di rimonta. L'anno seguente, a Shenzhen, medesimo spartito. Courte Central Starts at 14 2.00. Sf. 5, Mischa Dere vs. Q, Peter Gogiozik. Sf. Nikoloz Basilashvili vs. 7, Benoit Paire.